E' solario di Seed Seer Abbiamo molto di cui discutere Clive, giusto? Ho cacciato Servirà ben più di qualche pozione per questo Non badare a me In quale angolo del regno dimenticato dagli dèi ti sta trascinando Sida stavolta? Oriflam La Sacra Capitale E che cosa dovresti andare... Anzi, a pensarci bene, non voglio saperlo È quasi regalato, lo sai? Spero proprio che sia tutto È quasi regalato, lo sai? A proposito di Oriflam Ho sentito che le rotte commerciali a sud hanno visto un raddoppiamento del traffico Se vuoi sapere come la penso c'è qualcosa che puzza E non sto parlando del tè imbevibile di Taria Perché non passi un attimo da otto? Va bene Ho sentito Otto sbraitare contro i suoi Clive, giusto? Su, siediti, Clive Quindi... Devo trovare Gav Bene, bene, bene Qualcuno... Bene, bene, bene Bene, 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 bene Grazie a tutti 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 Quanti portatori soffrono per mantenere pieni i suoi granai Per oggi basta così, marchiati Che l'impero non abbia mai mandato qui la mia unità Se a Moore sono intolleranti come dice Isabel Non mi aspettavo di vedere altri marchiati così presto Qui c'è odore di morte, Torgal Lupi... non facciamogli avvicinare al villaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Dannazione... Beh, i lupi hanno banchettato... Beh, i lupi hanno banchettato... C'era un messaggio... C'era un messaggio... Marchiati così presto... C'era un messaggio... 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 C'era un messaggio...